Il tuo dipendente ti ha detto che se non gli dai l'aumento lui si licenzierà? Sei per così dire stato minacciato da una situazione dove una persona consapevole del fatto che ti metterebbe in difficoltà vuole e pretende un aumento e non sai cosa fare? In questo video voglio risponderti, voglio darti la soluzione definitiva su qual è l'atteggiamento corretto da avere e come risolvere questo problema. Alla fine ti darò specificamente la soluzione definitiva. Prima di iniziare lascia che mi presenti, io sono Corrado Fontana, sono il creatore del protocollo Watchtower. Dal 2011 aiuto le imprese a sviluppare la propria parte commerciale attraverso la creazione di reti vendita e nel creare reti vendita crea uno sviluppo aziendale che riguarda tutte le persone. Perché? Perché nel creare uno sviluppo sostenibile un'azienda non può avere solo dei venditori ma deve avere anche delle persone competenti all'interno dell'azienda per creare un ecosistema positivo e una crescita sostenibile. Cosa fare quando un dipendente ti minaccia? È una situazione molto frequente, l'ho subita anch'io, quindi non mi vergogno nel dire che ho avuto anch'io questa situazione. Prima di risponderti un'ultima cosa, iscriviti al canale perché condivido strategie di continuo per gli imprenditori che vogliono capire a livello pratico cosa fare quando si verificano situazioni sia in ambito commerciale ma anche con la gestione delle persone perché ripeto, le persone sono quelle che fanno l'azienda e quindi posso darti delle soluzioni. Iscrivendoti, mettendo mi piace a questo video, mi permetti di essere sempre in grado di rispondere alle tue necessità. E ti invito anzi a scrivere nei commenti qual è la tua problematica, così che magari se la problematica dovesse essere molto specifica e non trattata nei miei video, posso realizzare un altro video apposito. Allora, dicevamo, un dipendente ti sta minacciando, tra virgolette minacciando per così dire, o ti ha chiesto un aumento e ti ha fatto capire che se non glielo dai lui si guarderà attorno e sarà pronto a licenziarsi. In questa epoca è una situazione frequentissima, soprattutto per la crisi dei lavoratori. Viviamo un'epoca dove, dopo il Covid, si sono verificati addirittura 2 milioni di licenziamenti volontari in Italia, cioè persone che avevano un posto fisso, un contratto a tempo indeterminato, hanno deciso di recedere dal contratto di licenziarsi perché non si sentivano più realizzati all'interno dell'ambiente di lavoro. Oltre a questo, ci sono difficoltà per tantissime aziende nel trovare dipendenti e quindi sembra che le persone non abbiano voglia di lavorare. C'è quindi difficoltà nel trovare dipendenti, è una cosa oggettiva. Io ho trovato delle soluzioni attraverso il protocollo Watchtower, l'ho mostrato, ho fatto un seminario, ho organizzato degli altri video, li ho presentati e soprattutto ho un libro che tratta la soluzione a questo problema. Però, vista la problematica, andiamo a capire, vista il momento difficile, andiamo a vedere qual è la reale problematica e qual è la soluzione per te, imprenditore. È una situazione dove, ripeto, ci sono stato e posso capire lo stress psicologico che tu stai vivendo, perché tu dici, se io non lo accontento, questo si licenzia. E io mi trovo senza una figura importante, determinante, magari per il tuo studio, per la tua impresa, per la, non so, offri servizi, offri manutenzione, hai un'azienda produttiva, quindi produci, sei un terzista, insomma, sei un medico, magari potresti avere un personale fatto di altri medici, di altri specialisti. È una situazione sgradevole perché, appunto, sai che la produttività della tua azienda dipende dalle persone, anche da questa persona, magari sei combattuto ancora di più perché la persona sembra brava in quello che fa. E quindi dici, è un peccato perdere una persona così, perché sa fare più degli altri, è più attento, accorto e tutto il resto. D'altro canto, ti rendi conto che se lo accontentassi, quindi gli dessi la possibilità di ottenere quello che lui ti ha chiesto, potrebbe scatenare delle conseguenze negative. La prima conseguenza potrebbe essere che non si è contenta di un singolo aumento, e quindi fra uno, due, tre mesi o sei mesi tornerà. La seconda conseguenza è che potrebbe contagiare gli altri collaboratori, perché se tu accontenti uno, la voce tra i dipendenti viaggia velocissima, arriveranno altri. E quindi cosa fare? Allora, cerchiamo di capire la causa, perché la soluzione è applicabile solo se siamo consapevoli della causa. Se siamo arrivati a questo punto, quindi se ti ritrovi in una condizione dove i tuoi dipendenti ti stanno minacciando di licenziarsi, e se non gli dai quello che vogliono, quindi che sia l'aumento di soldi, l'aumento di ferie, più tempo libero, lo smart working, perché possono essere diverse le richieste, devi essere consapevole di una cosa. Non è mai la sua testa quella che pensa e che ragiona. Cioè, la sua richiesta non è frutto della sua testa. Questa persona è condizionata da altre persone. Vedi, perché una persona possa arrivare a fare un ragionamento di questo tipo, non ci può essere l'autoconsapevolezza. L'essere umano non è fatto per essere autoconsapevole. Cioè, l'essere umano vive di abitudini. La nostra testa è costruita, uso la parola costruita per generalizzare e soprattutto per chiudere il concetto, è costruita in un modo molto preciso. Affinché noi possiamo salvaguardare la vita e quindi non mettere a rischio la nostra salute, la mente, soprattutto una parte di questa mente, che è il nostro cervello rettiliano o il tronco cerebrale, cosa fa? È consapevole che la salvaguardia della vita deriva dalla sicurezza e la sicurezza deriva dal fare delle cose che hanno funzionato. Quindi consolidare delle abitudini che sappiamo che non ci danneggiano. Non significa che non siano abitudini sbagliate, ma quantomeno sappiamo che le conseguenze che queste abitudini scatturiscono riusciamo a gestirle. E la mente, quindi, è fatta di abitudini. Noi viviamo di abitudini. Tanto che molto spesso si parla di uscire dalla zona comfort. Uscire dalla zona comfort significa rompere queste abitudini. Significa andare contro quello che abitualmente e siamo uso fare, siamo consueti fare e agire. Allora, accade che una persona che sta facendo un'attività e ha scelto te come azienda e sta lavorando per te, nel suo ciclo vitale, lui vive di abitudini. L'abitudine legata al lavoro, l'abitudine legata allo svago e così via. Non è autoconsapevole di tutto quello che potrebbe fare. Perché se fosse autoconsapevole non sarebbe da te, avrebbe aperto una sua attività, avrebbe realizzato dei progetti, avrebbe fatturato milioni di euro, ma non è possibile. Nessun grande milionario, miliardario della storia passata e presente è tale perché in autonomia è diventato automaticamente consapevole di poter diventare milionario. O è diventato automaticamente consapevole di quello che doveva fare per diventare milionario. Nessuno. Né Berlusconi, né Briatore, né Agnelli, né Rothschild, né Soros, nessuno. Né Elon Musk, nessuno. Hanno tutte queste persone avuto la lungimiranza, quindi la capacità mentale, di rendersi conto che gli serviva un aiuto. Si sono rese conto che serviva un mentore, un coach, che li prendesse per mano, gli insegnasse cosa fare. Non a caso, se parliamo degli Agnelli, hanno ereditato, cioè essendo la famiglia già consolidata, è un esempio non critico, ma è un esempio per farti capire come funziona. I genitori insegnano ai figli quello che hanno imparato e quindi i figli imparano dai genitori a fare quello che i genitori hanno realizzato. Non sempre funziona bene, perché molto spesso chi arriva nella seconda generazione non riesce a ripetere i risultati della prima, però cambiano anche le circostanze del territorio, cambia l'ambiente, cambiano tante cose, quindi le epoche cambiano, ci sono strumenti diversi e vi diciamo. Allo stesso modo il tuo dipendente non è autoconsapevole di quello che può fare, di quello che può chiederti, ma ha qualcuno che lo prende per mano e gli dice quello che deve fare. Questo qualcuno è una persona di cui lui si fida e si fida non perché questa persona abbia dei risultati migliori suoi. Attenzione, perché se noi andiamo il lunedì mattina al bar troviamo che sono tutti allenatori o il giovedì mattina dopo la serata di Champions League sono tutti allenatori al bar, tutti fenomeni. In realtà non lo sono perché sono lì a parlare e criticare, ma accade questo. Il tuo dipendente ha quindi o un partner o un genitore, o i genitori entrambi, o dei fratelli, o dei cugini, o degli amici che lo stuzzicano, che gli rompono le scatole. e cominciano a dirgli guarda, tizio prende questo, caio prende quell'altro, tu invece non stai prendendo questi soldi, oppure guarda tutto il lavoro che stai facendo, chi te lo fa fare di fare tutto questo lavoro. E la persona che non era consapevole comincia ad avere dei dubbi. Il problema è il dubbio, perché è un semino che arriva nella testa, è un tarlo che comincia a lavorare e comincia a creare dei pensieri e dai pensieri nascono delle emozioni. Le emozioni creano poi lo stato d'animo che porta a alimentare ancora di più quel pensiero e quindi a stare male, creare frustrazione, rabbia, potrebbe anche creare dei sentimenti positivi se fossero dei pensieri nobili, però è più facile lavorare sulla frustrazione. Se noti, le persone in generale sono frustrate e pronte a criticare a destra e a manca chi lavora, perché è più facile criticare che fare. Quindi questa persona ha degli altri che stanno contaminando il suo modo di pensare. E ripeto, sono solitamente persone che non hanno avuto risultati. Sono persone che non hanno mai fatto nulla nella loro vita di significativo. Magari è un papà o una mamma che ha lavorato in fabbrica fino ad andare in pensione o sta lavorando come dipendente, ha le sue frustrazioni perché non è mai riuscito a realizzare quello che lui desiderava fare e lo scarica sul figlio, sulla figlia. E il figlio o la figlia che vede questa figura come una figura di fiducia, non perché abbia dei risultati ma perché c'è stato attaccamento per tanti anni, dice beh, sì, ha ragione, in effetti mi fermo mezz'ora in più ogni giorno, mi fermo un'ora in più ogni giorno, sono andato a prendere quell'attrezzo, ho detto sono stato gentile con quella signora, cioè si verificano una serie di pensieri dove lui ingigantisce quello che fa e sminuisce quello che tu gli dai. Per lui tu sei un milionario, anche se non è così perché lui non si rende conto di quanto tu investi nella tua azienda. Cosa accade? Per sentito dire, per sentito dire, le chiacchiere giudicano gli imprenditori come persone che fanno i soldi. magari, non so, hai l'opportunità di avere un cliente famoso e per le persone che ti circondano l'invidia li porta a dire beh, allora vuol dire che fai tanti soldi. Oppure vedono il fatturato dell'azienda, non so, fai 100.000, 500.000, 5 milioni, 10 milioni, 100 milioni, un miliardo, nella loro testa sono soldi che ti porti in tasca. non sanno che ci sono dei costi aziendali, magari tu hai uno stipendio che è più basso di quello dei dipendenti, perché molto spesso è questo che accade, no? Magari vedono che tu hai l'auto grossa, grossa vuol dire che è più di un appunto, e non sanno che magari c'è un leasing, uno legge sotto, dicono, hai visto, mio capo, non sanno che c'è l'azienda che la paga, non sono consapevoli che ci sono dei costi ammortizzabili, deducibili, per loro tutto fa massa. E quindi queste persone, questi parenti, questi solitamente anche il partner, soprattutto se cominciamo ad avere a che fare con una persona che è un po' più grande, potrebbe essere la fidanzata, il fidanzato, la moglie, il marito, crea zizzanie, quindi alimenta quello che è un sentimento negativo. E quindi tu ti trovi con una persona che ti fa una richiesta, ma in realtà non è questa persona con la quale tu pensi di poter interagire e di risolvere quella con cui realmente puoi risolvere. Perché dietro c'è un esercito di nemici che remono contro di te e vogliono quindi boicottare il tuo operato. E non lo fanno in cattiva fede, loro sono convinti di salvaguardare la salute di questa persona. Non sono consapevoli, sono completamente ignoranti, nel senso che ignorano e ignari di quello che è realmente il tuo lavoro. Perché però la persona potremmo pensare si fa condizionare. Perché non si fa condizionare da sentimenti positivi, da modi di pensare positivi, etici? Perché non si fa condizionare da un miliardario che gli dice guarda lavora sodo, impara e metti in pratica i consigli, cerca di servire ancora meglio i clienti, impara a vendere così che poi impara a risolvere problemi così che diventi ancora più prezioso per la tua azienda. No, perché si fanno condizionare da persone sbagliate? Perché vedi, la nostra mente sempre per il modo in cui è costruita ha un altro meccanismo. Se da una parte il meccanismo delle abitudini è quello che funziona, perché le abitudini non ci hanno ucciso, anche se magari le abitudini di formare ci ucciderà, ma oggi siamo ancora in vita quindi non ci rendiamo conto, la stessa mente ha bisogno di attenzioni, la stessa mente ha bisogno di essere apprezzata, la stessa mente ha bisogno di sentirsi importante. Non a caso le persone spendono la loro vita fuori dal lavoro sui social, nel farsi selfie dei ragazzi o i ragazzi che sono magari la coppia che si fa la foto mentre è in ferie, la coppia che si fa la foto mentre è al ristorante, la coppia che si fa la foto mentre è al parco con la macchina nuova, poi in realtà magari si fanno le corna, si odiano, si pestano di parole, però devono far vedere che loro sono felici, in realtà è tutta una cazzata, tutto fumo. Perché fanno questo? Perché vogliono sentirsi importanti, vogliono ricevere commenti, addirittura se non ricevono commenti o like si sentono frustrati perché dicono ma perché la gente non mi commenta, perché la gente non mi dice che gli è piaciuto, perché non mi fanno i complimenti per il posto dove sono, perché non mi fanno i complimenti per mia moglie per vedere quanto figa è o per mio marito o per quanto figo è. C'è bisogno di attenzioni e quindi questo tuo dipendente cosa che fa? Si sente importante perché qualcuno gli sta dando dei consigli e sta nutrendo il suo ego. Il racconto di Adamo ed Eva è funzionato nello stesso modo. Il diavolo ha tentato Eva facendo Eva su che cosa? Eva su che cosa? Sul suo bisogno di importanza sul suo ego. Quindi consapevole di questo la cosa da fare diventa subito chiara. Prima di rispondere al tuo dipendente nella sua richiesta devi renderti conto che quello che dirai qualsiasi cosa dirai non funzionerà. Perché? Perché quello che lui sta raccontando è come una sorta di non è il suo racconto è come una sorta di ventriloquo. Cioè c'è qualcuno che sta muovendo le sue labbra. C'è qualcuno che sta muovendo il suo pensiero. Non sono parole sue. Non è così. E quindi cosa succede? Lui tu gli parli gli dai una risposta che sia dare l'aumento o non dare l'aumento non funzionerà. Perché lui riporterà a casa quello che tu gli hai detto e le persone che avranno sentito quello che riporterà a casa gli diranno ma come? Ti sei fatto abbinare un'altra volta? Ti sta mentendo? È un coglione? È una testa di cazzo? Non ti rendi conto che quel titolare vuole solo sfruttarti? Non vuole darti quello che meriti? Tu vali molto di più! Vali molto di più! C'è da dire però che prima di trovarci in questa situazione si è verificato un altro problema perché se questa persona è venuta da te a fare questa richiesta e prima ancora ha permesso a qualcuno di mettergli in testa dei dubbi il problema sei tu cioè senza volerlo chiaramente hai fatto l'errore di non curare questo aspetto. Come io rivelo nel mio libro e come rivelo nel mio protocollo Watchtower essendo stato all'interno di un'organizzazione quella dei testimoni di Geova per 25 anni ecco da dove nasce il protocollo Watchtower nelle sette religiose e quindi anche nei testimoni di Geova succede un fenomeno di questo tipo nessuno vuole diventare un testimone di Geova cioè nessuno vuole entrare per spontanea volontà l'autoconsapevolezza non esiste detto l'inizio nessuno è autoconsapevole c'è qualcuno che ti incuriosisce un mentore un coach questa persona ti porta all'interno ok quando una persona comincia nella realtà dei testimoni a essere curiosa degli argomenti che trattano e condividono subito dice io non diventerò mai un testimone o anche se lo diventasse non andrò mai fuori a predicare a suonare i campanelli cosa che però puntualmente nel giro di 6-12 mesi questa persona farà come mai? perché vedi viene fatta un'azione la prima volta in cui questa persona comincia a parte l'attività di incuriosimento che adesso non tratto per questioni di tempo e perché andremo fuori di tema comunque sul mio libro Sirete Vendita Imperiale che protocollo Watchtower puoi trovare la risposta perché è lo stesso modo che puoi utilizzare per trovare i dipendenti per trovare i venditori per trovare le persone che ti interessano viene fatta una cosa questa persona comincia quindi si incuriosisce la tematica e gli viene detto quello che tu stai facendo è una cosa speciale non è a caso se tu sei qua è perché qualcuno ti ha scelto cosa si fa? si fa leva si fa leva quindi con una leva io alzo che cosa si fa leva sull'ego e quindi il fatto che tu sia stato scelto darà fastidio a qualcuno che non è stato scelto preparati a ricevere degli attacchi cosa vuol dire attacchi? preparati a ricevere persone che ti diranno che non va bene quello che stai facendo che inizieranno a metterti dei dubbi inizieranno a criticarti a dirti che devi smettere e devi dicendo così una persona cosa fa? inizia il suo percorso per diventare testimone di Geova ma che sia testimone di Geova o di Scientology o di qualsiasi altro gruppo religioso o comunità funziona così cioè ho già messo nella testa del mio dipendente quello che lui dipendente perché il principio è uguale quello che lui potrà aspettarsi allora se tu non fai questa fase iniziale che non si fa semplicemente dicendogli boh questo è il contratto lo firmiamo da domani inizi a lavorare bene preparati perché nei prossimi giorni qualcuno ti dirà che non va bene quello che fai no non funziona così io adesso l'ho semplificato ma è un percorso che dura chiaramente delle fasi quindi si devono fare delle fasi molto molto precise altrimenti rischi di fare in modo che questo si licenzi il giorno stesso però il meccanismo è questo se tu fai così allora lui si preparerà alle critiche ai dubbi ed evitiamo di metterli hai capito? quindi quando io do prevengo il problema il problema non si verifica più perché questa persona l'avevo preparata è il fatto che qualcuno avrebbe criticato quello che lui aveva scelto di fare però a questo punto rimane il problema cosa faccio adesso però che ho il dipendente che mi sta minacciando? allora la cosa che ti consiglio di fare innanzitutto è di incontrarlo incontrarlo senza problemi e di prendere nota carta e penna di quello che lui ti chiede tu ti mostri disponibile l'ascolto quindi senza parlare quindi non devi dare non deve crearsi un dibattito tu prendi un foglio di carta e cominci data luogo con chi cominci a scrivere dimmi Corrado quali sono le tue richieste? le mie richieste sono questo 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 ok guarda accolgo le tue richieste fammi capire per quando le vuoi le voglio entro questo mese voglio lo stipendio più alto perché insomma ne vado ok cosa che fai tu se non se non ti do queste condizioni qua io mi licenzio perché mi guardo in giro vado da un'altra parte e tutto il resto ok guarda mi riservo del tempo per fare delle valutazioni e ci rivediamo magari fra una settimana un mese decidi tu a secondo guarda di quello che potrebbe essere il periodo è anche vero che devi valutare prima di vedere questo accordo perché questa persona è arrivata al punto di minacciarti perché probabilmente significa che hai messo sulle sue spalle una responsabilità troppo grande e un rischio troppo grande per te ossia laddove tu hai la possibilità di diversificare i ruoli di interscambiare le persone è molto difficile che una persona abbia gli elementi per metterti sotto scacco cioè se hai una pizzeria e hai un pizzaiolo è un problema sei tu perché non puoi avere un pizzaiolo solo con una pizzeria che da ogni mattina ti dici sto a casa e che ti fa le pizze il giorno dopo e chi manda avanti l'azienda c'è un problema se invece hai la possibilità di avere più persone ho uno scambio per cui una persona non è più indispensabile ma posso interscambiarla e se anche tu dicessi no ma io non posso permettermi due persone tre persone più persone in quel reparto perfetto allora devi creare un sistema affinché sia facile il rimpiazzo anche con persone senza esperienza come si fa lo rivelo all'interno del protocollo Watchtower molto facile si può fare easy per qualsiasi settore e si risolve dopo che ti sei preso del tempo tu devi renderti conto che quando andrà a casa questa persona come ti ho detto lui è un ventriloco parla con la bocca degli altri tornerà a casa si confronterà con gli altri e gli chiederanno come è andata la tua richiesta di chiedergli l'aumento ma guarda lui si è preso nota ha scritto e quindi ha detto che mi farà sapere il fatto che tu ti sia scritto e venga raccontato questa cosa stupirà gli altri li renderà disarmati e quando tu avrai fatto le tue valutazioni devi anche considerare in che modo lui ti sta minacciando cioè se ti dice guarda Corrado io contesto bene però mi sto guardando attorno perché vorrei qualcosa in più dobbiamo capire un attimo di cosa stiamo parlando cioè o tu stai sottopagando gli altri i dipendenti il che potrebbe essere che magari con un piccolo una piccola taratura la cosa si risolve io mi sto riferendo nello specifico a persone che sono già pagate bene li stai già trattando bene gli stai dando tanta disponibilità e sono quelli che ne approfittano quindi allungano le parole allungano le discussioni le polemiche ecco questo tipo di persona è quello che devi assolutamente tenere d'occhio e dal quale ti devi guardare nel caso di persone polemiche di persone che sono anche brave ma che non sono per così dire positive nel modo di fare per quanto brave siano la cosa che devi fare è dopo che ti sei trovato il tempo una settimana un mese che tu magari non so in quel mese dovevi evadere degli ordini importanti ti serviva il tuo aiuto quindi tieni fermo quel mese dicendogli guarda ci sentiamo un mese dopo un mese prossimo che torno dal viaggio dalla trasferta che finisce la fiera che evadiamo tutto questo e ti prometto che ti do una risposta tu cosa fai nel frattempo ti organizzi con il tuo consulente del lavoro e prepara il licenziamento punto fine una persona così non troverà mai una soluzione e non si accontenterà mai di quello che tu gli dai perché diventa ingorda come diceva Platone vedi i popoli più gli si dà più diventano ingordi e aveva ragione questo principio filosofico è vero il comportamento umano è questo più gli dai più diventa ingordo sono come le ex mogli quando tu le abitui bene poi quando l'amore finisce per n cose sono state abituate bene ed sono ingorde di risarcimento non c'è una soluzione devi troncare la cosa da fare è troncare e per troncare quindi organizzati per tempo consultati con il tuo consulente del lavoro magari se la minaccia è stata anche pesante senti un avvocato sempre in ambito lavorativo quindi un avvocato nel diritto del lavoro perché scatta anche il penale quindi la minaccia non va bene la minaccia del metterti in difficoltà perché sanno che c'è l'opportunità di metterti in difficoltà lo fanno apposta e deve essere troncato perché deve essere troncato? primo perché è una persona che si fa condizionare dal partner dai figli dai figli dai genitori dai fratelli è una persona che non ha personalità quindi non è una persona che ha la passione per il lavoro è un mercenario e ti abbandonerà per qualcun altro è una persona che non ha valori quindi se tu stai cercando qualcuno che ti aiuti perché possa essere accompagnato in un percorso è una persona che non ha valori non ti accompagnerà da nessuna parte è una persona che da qua a un mese tre mesi sei mesi ritornerà con un'altra richiesta è una persona che creerà polemiche di zane in giro quindi contaminerà anche gli altri rischi che ti trovi una squadra di persone che ti lasciano a piedi dalla sera alla mattina rischi di trovarti con altri dipendenti che tornino da te per chiederti un altro aumento come ho già spiegato in un altro video non sono i soldi che ti permettono di mantenere le persone sì sto dicendo c'è un contratto nazionale rispetto al contratto nazionale sei a posto c'è quello bravo che vuoi premiare va bene premialo ma tutto deve essere nato a monte cioè dovresti creare un progetto tale per cui organizzi dei compensi non solo sui costi fissi ma anche sul variabile questa è una cosa che puoi fare valutare soprattutto perché dà stimolo a chi si impegna di più ma una persona negativa va tolta tra l'altro tu lo aiuti in questo modo cioè troncando il rapporto licenziandolo e facendogli la proposta magari una buona uscita per andare via lui prima cosa lo spiazzi non si aspettava una cosa di questo tipo perché lui pensa di avere il potere il coltello da parte del manico invece non si rende conto di essere piccolino e quindi di non valere nulla sarà costretto a rimpiazzare il suo lavoro in fretta e furia e quando andrà a fare di colloqui gli chiederanno ma da quando è disponibile sono disponibili da subito perché perché il rapporto di lavoro è finito perché è finito gli chiederanno i nuovi datori di lavoro è perché non hanno voluto darmi l'aumento e quindi io sono venuto via calma prima che trovi lavoro ne passa e se trova lavoro dovrà trovarlo le condizioni che rettano gli altri è più facile che lo aiuti perché? perché lui sbattendo la faccia e i denti direttamente sulla realtà delle cose si renderà conto che in giro non è migliore di quello che lui ha trovato da te che le chiacchiere della compagna o del compagno sono solo chiacchiere inutili e si renderà conto quindi che deve cambiare probabilmente tornerà a chiederti scusa probabilmente tornerà anche da te se non torna se non capisce non hai perso nulla di valore sai perché il tuo lavoro lo puoi insegnare a qualcun altro e con il protocollo watchtower ad esempio puoi essere in grado di formarne uno cento allo stesso tempo la fatica è sempre quella e li rimpiazzi subito anzi puoi scegliere persone grazie al protocollo watchtower persone che lavorano come vuoi tu quindi tutto di guadagnato non ci perdi nulla e grazie al protocollo watchtower tu imparerai a formare le persone e a sceglierle e ad agire in modo tale che non si verifichi mai questa condizione se vuoi saperne di più su di me sul protocollo watchtower vai qui sotto trovi i link nel dettaglio se vuoi fissare una consulenza con me qui sotto trovi il link per poterla fissare affinché possiamo capire come potete aiutare nei commenti ti raccomando di lasciare la tua impressione di scrivere cosa ne pensi perché mi interessa approfondire la tematica magari che riguarda te nello specifico quindi rispondati personalmente per quello che potrebbe interessarti iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e condividi questo video con tutte le persone che reputi possono essere interessate all'argomento perché magari lo stanno vivendo e non sanno come uscirne per oggi è tutto noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ciao